carissimi fratelli e sorelle gioia e pace in abbondanza a tutti voi la grazia del signore risplende in mezzo agli uomini e si manifesta attraverso l'azione dello spirito santo e questa grazia del signore ricordiamola sempre si è manifestato visibilmente sulla terra attraverso l'umanità del figlio di Dio Gesù Cristo che è diventato nostro signore e nostro salvatore e è lui sale ogni lode e gloria nei secoli ricordiamo sempre quelle parole dell'apostolo che è apparsa la grazia di Dio e San Giovanni aggiunge la vita si è resa visibile e questa verità che è luce che potenza che la presenza viva di Dio si è manifestato sulla terra attraverso l'umanità del figlio di Dio nato dalla Vergine Maria per opera dello spirito santo non dobbiamo mai smettere fratelli di professare la nostra fede nel figlio di Dio specialmente ai nostri giorni perché si stanno facendo tanti sforzi per confondere le menti per confondere i cuori per allontanare i cuori degli uomini dalla grazia di Dio lo stiamo vedendo nelle famiglie quanto sta succedendo ma tutto questo non ci deve adarmare satana lo dice il libro dell'apocalisse quando si scatena lo fa perché sa che ne rimane poco tempo e per questo allora si dà da fare come ai nostri giorni c'è una corsa frenetica nel voler sovvertire l'ordine del mondo che ordinato non è Dio ha creato un mondo ordinato ma che il peccato dell'uomo ha stravolto confuso e continua a farlo ma la grazia di Dio non si allontana la grazia di Dio cammina con il suo popolo chiediamo allo spirito santo di farci luce di illuminarci di disporre i nostri cuori a comprendere sempre più la grazia del Signore vieni spirito santo manda a noi dal cielo un raggio della tua luce vieni padre dei poveri vieni datore dei doni vieni luce dei cuori consolatore perfetto ospite dolce dell'anima dolcissimo sollievo nella fatica riposo nella calura riparo nel pianto conforto o luce beatissima invade nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli senza la tua forza nulla è nell'uomo nulla senza colpa lava ciò che è sordido bagna ciò che è arido sana ciò che sanguina piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido drizza ciò che è sviato dona i tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni dona virtù e premio dona morte santa dona gioia eterna amen signore gesù tu sei la luce del mondo tu stesso detto io sono la luce del mondo chi segue me non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita ti preghiamo signore gesù manifestaci il tuo volto guida la tua chiesa in questi giorni guida con la potenza e la luce dello spirito santo guida il cuore di ogni credente guida la coscienza di ciascuno di noi perché in mezzo a questo mondo turbolento possiamo comprendere la tua volontà camminare secondo i tuoi progetti e donna a tutti noi la piena sottomissione alla tua parola poiché le tue parole sono spirito e vita a te gesù la lode la gloria per tutti i secoli dei secoli amen stiamo leggendo in questi giorni fratelli meglio proclamando la prima lettra di san paolo ai tessaronicesi nel brano che si la seconda lettra di san paolo ai tessaronicesi il primo brano che ascoltiamo oggi parla della venuta del signore e l'apostolo dice riguardo alla venuta del signore nostro gesù cristo e il nostro radunarci con lui i preghiamo fratelli di non lasciarvi troppo presto confondere la mente e allarmare né da ispirazioni né da discorsi né da qualche lettera fatta passare come nostra perché questo la predicazione degli apostoli era sempre accompagnata da un annuncio che quel gesù che gli uomini avevano appesa la croce era vive risuscitato e glorioso era sceso al cielo e di la sarebbe tornato a giudicare i vivi e i morti lo diciamo anche nel credo morto nella carne ma reso vivo nello spirito cristo gesù è diventato e glorioso e ma attendiamo il suo ritorno su questa terra a portare a convimento l'opera della salvezza e lo dice lui stesso quando durante la passione fu interrogato annunciò che sarebbe tornato e quel giorno diceva vedrete il segno del figlio dell'uomo e si manifesta nella scrittura questo evento del ritorno del signore in mezzo a noi e questo discorso che oggi sembra quasi una novità che ci può in qualche modo turbare in realtà il nuovo testamento è pieno di questi riferimenti lo troviamo in san paolo lo troviamo in san pietro san pietro dice tanti dicono che gesù tarda a tornare ha detto che lo farà ma non l'ha ancora fatto tarda a tornare così la lettera d'ebrei parla di questo ritorno ne parla nei vangeli in che cosa consiste questo ritorno nella piena manifestazione della gloria di gesù cristo che si manifesta dice la scrittura e negli scritti di tanti mistici gesù parla del suo ritorno anche dei segni prodigiosi che avrebbe compiuto come quello di manifestare la sua gloria perché ogni uomo sulla terra abbia conoscere la verità ogni uomo sulla terra anche la possibilità di accogliere la salvezza e questo anche ai defunti ricordiamo la parola di san pietro morto nella carne amarese nello spirito vivo nello spirito in spirito andò ad annunciare la salvezza agli spiriti di coloro che attendevano in prigione essi un tempo avevano rifiutato di credere dio padre vuole la manifestazione piena del figlio suo gesù cristo e questa lettera a tessalonicesi lo sentiremo fra qualche giorno san paolo parla anche dei segni che accompagnano la venuta del signore è uno dei segni più evidenti dice quello dell'apostasia prima ci sarà l'apostasia cioè gli uomini saranno tentati di abbandonare dio di andare contro dio quello che si sta facendo oggi non solo si invita a non credere ma si vuole sovvertire addirittura la creazione stessa e mettersi al posto di dio e molti lo dicono apertamente quel giorno noi saremo dio e la tentazione di rame leva satana disse loro si apriranno i vostri occhi conoscerete il bene e il male e diverrete come dio vivrete al posto di dio sostituire di dio addirittura nel governare la natura nel governare la vita umana tante cose a volte meglio ai nostri giorni danno da vedere che c'è qualcosa che parla proprio di questi eventi il signore vuole che noi apriamo gli occhi ma gesù nel vangelo che ascoltiamo si preoccupa di richiamare i suoi ascoltatori all'osservanza della sua parola dice agli scrivi fare sé che guidavano il popolo voi pagate la decima di tutto quello che comprate eccetera ma trascurate le cose più importanti tra scritte le prescrizioni più gravi della legge come fare giustizia usare misericordia essere fedeli queste cose dice su sono da fare senza tralasciare quelle che voi dite signore gesù dono oggi a tutti noi questa sapienza tu non vuoi che noi viviamo di timore che viviamo di paura ma di luce di verità conforta il tuo popolo oggi e va operare i tuoi prodigi in mezzo a questo popolo tu oggi stai dando tanti segni della tua presenza sta richiamando tanti alla fede e coloro che ti cercano col cuore sincero ti trovano perché tutti i manifesti ti riveli tanti che sono vissuto una vita intera lontana da te stanno tornando perché tu li stai chiamando signore perché la tua grazia non è venuta meno anche se non sempre vediamo i segni tuoi incessantemente donaci signore di arrenderci a te e vivere di te come santa rosa da rima che in mezzo a un mondo in subuglio visse i suoi trent'anni di vita totalmente dedicata a te per la conversione dei peccatori per il ritorno a te di tutti gli uomini a te gesù si ralò della gloria per tutti i secoli dei secoli amen vergine santissima dispone i nostri cuori ad incontrarci con gesù e a vivere fedele a lui anche in mezzo alla negazione che tanti fanno del suo nome donne c'è lo spirito di fedeltà secondo la parola di gesù che avrà perseverato sino alla fine sarà salvato tu che regni insieme a lui nella gloria che si è stata costituita regina del cede della terra prenditi col di noi figli tuoi e fa che incontriamo il figlio tuo gesù cristo e ci arrendiamo a lui per appartenere a lui e vivere di comunione con lui a cui salga ogni lode gloria per tutti i secoli dei secoli amen e la grazia del signore fratelli oggi illumini i vostri cuori vi dia la vera sapienza dell'anima e vi faccia risplendere in questo mondo come luce come fiancole nelle tenebre all'ode gloria di gesù signore nostro amen